Lo sportello del cittadino si trova a Taranto Lama via Girasoli. Per parlare di una questione ormai incancrenita, potremmo dire da decenni, mi riferisco al problema della erosione della costa. Una problematica che ovviamente riguarda una pluralità di enti, iniziando dal demanio, la regione, la provincia, il comune. La strada è di fatto transennata e arginata da dei blocchi di cemento che servono ad arginare questo fenomeno. E poi ovviamente c'è lo sprofondamento adiacente agli scogli. Certamente una strada così limitata meriterebbe una diversa sistemazione, tanto più che, viva Dio, sono passati oltre 10-15 anni, è il momento di intervenire. Non si può bloccare e lasciare tutto congelato. Ne parliamo con il Cavalier Alfredo Luigi Conti, che è il portavoce del comitato di quartiere Pezzavilla Verde e Sport. Come detto, una situazione paralizzata, congelata. Sono oltre 10 anni che io proposi, 10 anni fa, proprio 10 anni fa, di intervenire su questo tratto dopo che c'è stata una frana. Lo smottamento. Lo smottamento, chiaramente dovuto all'erosione delle coste. Ora credo che sia arrivato il momento di dover intervenire. Mi appello a tutti gli enti interessati ad intervenire, perché non è possibile che una zona residenziale, una zona turistica sia in queste condizioni. Noi certamente non facciamo una bella figura con i turisti, con i residenti che mi chiedono in più occasione di far intervenire. Credo che sia arrivato. Faccio un appello a Costoro di poter intervenire. Allora, siccome sta cambiando la città e stanno facendo tante belle cose, è bene che si intervenga e si intervenga seriamente. Ecco, mi sento anch'io di sposare l'appello del Cavalier Conti. Il discorso è che ci deve essere un'azione sinergica, un'azione corale che veda più i vari soggetti, attori, vari enti, attori uniti sinergicamente, perché purtroppo non è una questione singola di comune, provincia o regione o demanio. È un'azione, come dire, che deve essere totalizzante rispetto appunto agli interventi, agli sforzi di questi enti. Ripeto, stiamo parlando di una zona con un appeal turistico enorme e una zona baciata da madre natura non può assolutamente meritare dei blocchi di cemento che da un lato deturpano l'aspetto esteriore, ma ancor di più deturpano e bloccano e paralizzano le possibilità di sviluppo del territorio, possibilità di questo sviluppo legate alla risorsa turismo. E allora, dopo 10-15 anni, dopo varie amministrazioni di tutti i colori che ci sono succedute, penso che sia doveroso per una volta tanto intervenire. Seminare la rinascita di Taranto vuol dire anche considerare queste zone, considerare le periferie, periferie che meritano la stessa attenzione delle zone centrali di Taranto. Grazie a tutti.